fratelli e sorelle volevo parlarvi oggi della dottrina fondamentale che la scrittura definisce la dottrina dell'imposizione delle mani infatti leggiamo in ebrei al capitolo 6 ai primi versetti stanno scritte queste parole perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a cristo tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in dio della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani della risurrezione dei morti e del giudizio eterno ora di quasi tutte di tutte queste dottrine elementari ne abbiamo già parlato e mancava ancora questa qui la dottrina della imposizione delle mani che praticamente in cosa consiste consiste nel in cui una persona un uomo di dio un servitore di dio impone impone le mani ad altri e ad altre persone per motivi o per un passaggio di autorità da lui ad altri oppure anche per un passaggio di una potenza spirituale particolare quindi l'imposizione delle mani si 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 può fare sia con una mano sola imponendo una mano su una persona o tutte e due le mani sopra 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 di lui questa imposizione delle mani naturalmente cosa fa fa in modo che il dio attraverso quella persona fa passare qualcosa c'è un passaggio un passaggio da chi impone le mani a chi riceve di o un'autorità particolare che poi vedremo alcuni esempi che la scrittura ci fa ci fa conoscere o un'autorità particolare o anche una potenza particolare o un beneficio o una benedizione particolare che riceve colui che a cui vengono imposte le mani quindi abbiamo visto che una dottrina fondamentale elementare perché anche questo è molto importante perché noi oggi ci guardiamo attorno con internet possiamo renderci conto di tutto quello che gira cioè molti dicono che sono servitori di dio e diciamo al loro modo con un certo modo di fare che hanno cosa fanno e dicono di dilargire di distribuire la benedizione di dio la grazia di dio agli altri guarigioni la potenza dello spirito santo e doni spirituali delle benedizioni anche lo spirito santo delle benedizioni attraverso riti riti e sim e dati simbolici che sono particolari cioè del tipo ce n'era uno mi ricordo mi sembra che era ben in che si è tolto la giacca faceva girare la giacca e con quella in quella maniera faceva passare una benedizione verso da lui agli altri poi ci sono quelli che danno i calci quelli che danno calci alle persone dice dicendo facendo capire che così c'era un passaggio di benedizioni da lui agli altri cioè insomma ci sono tutti un insieme di rituali particolari inventati dall'uomo che pretendono pretendono di essere qualche rivelazione da dio e che diciamo permettono un passaggio della potenza di dio da un servitore ad altri da un uomo da un credente ad un altro invece la scrittura per fare per diciamo spazzare via tutta questa immondizia noi ci dobbiamo attenere ci dobbiamo attenere a quello che è scritto come avviene un passaggio di autorità come avviene un passaggio di una benedizione ci possono essere diversi modi anche tipo la guarigione si può ottenere anche con l'unzione dell'olio no si può ottenere con l'imposizione delle mani semplicemente con la preghiera però vedete tutte queste cose sono ben scritte nella parola di dio quindi non c'è bisogno di inventarsi rituali particolari gesti particolari movimenti particolari per ricevere una benedizione da dio per pregare dio e far ricevere ai fratelli alle sorelle una una certa cosa che viene da dio non c'è bisogno di inventarsi nulla infatti l'apostolo paolo diceva di non praticare di non andare oltre a quello che sta scritto e questo è importante ecco quindi capite perché anche anche questa dottrina della imposizione delle mani è posta qui nell'epistola dello scrittore agli ebrei è posta come una dottrina fondamentale elementare cioè questa bisogna conoscerla perché chi la conosce dopo spazza via ogni 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 mondizia ogni vento di dottrina ogni vento di novità che non proviene da dio che le novità non provengono da dio dio fa quello che sta scritto quindi quindi per far per spazzare via tutta questa immondizia tutto ciò che non è vero tutto ciò che non è verace per spazzare via tutto ecco quindi che anche la dottrina della imposizione delle mani è una dottrina fondamentale da conoscere è fondamentale perché vedete libera il credente da tante falsità lo libera perché la verità rende liberi e la dottrina delle imposizioni delle mani anche questa deve essere conosciuta deve essere conosciuta perché perché così non si lascia spazio a eventuali altri movimenti strani che i credenti possano possano fare e seppur ci sono come dio dava degli ordini particolari ai profeti no nella gli dava degli ordini particolari seppure questi hanno bisogno poi di una conferma da parte di dio quindi se ci sono rituali particolari che i profetti fanno da parte di dio poi abbiamo bisogno di una conferma che viene da dio capite qualche simbologia che il signore ci vuole dare però rimane fermo è il fatto che principalmente per determinate cose che adesso vedremo il dio ha stabilito l'imposizione delle mani non rituali strani le giaccate no colpi di giacca o quello che dice fresh col movimento di una mano che colpisce tutto l'uditorio e cadono tutti a terra capite c'è sono tutte 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 scene tutta scenografia questa che non è scritta nella parola di dio quindi quindi noi conoscendo la parola ecco cosa cosa succede che conoscendo la verità la verità ci rende liberi ma da che cosa ci rende liberi ci rende liberi dalla menzogna dalla falsità da tutto ciò che non piace a dio perché la verità spazza via l'immondizio spazza via la falsità la luce illumina le tenebre quando la luce si accende e le tenebre sono spezzate sono spazzate via capito cioè da che non vedevamo in quella stanza si accende la luce e dopo si vede quindi le tenebre scompaiono quindi è importante conoscere cioè non è che dobbiamo conoscere soltanto quello che ci riguarda noi personalmente nel senso quello che dobbiamo fare dobbiamo pregare e dobbiamo conoscere quell'aspetto dobbiamo fare le mosine dobbiamo conoscere quell'aspetto dobbiamo digiunare dobbiamo 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 fare altre cose ed è buono saperle e praticarle però ci sono anche altre cose certo anche questa dottrina bisogna praticarla non è che non bisogna praticarla però talvolta bisogna sapere delle cose per affinché affinché diciamo non si non non si lasci spazio a a delle pratiche sbagliate a delle cose che sono che sono sbagliate e una di queste cose importanti da conoscere è appunto l'imposizione delle mani ora andiamo subito a vedere il primo esempio che troviamo nel libro dei numeri libro dei numeri alla fine del libro dei numeri quando quando diciamo Mosè stava per per essere raccolto con i suoi padri cioè Mosè stava per morire la situazione è questa il dio al versetto quindi capitolo 27 di numeri leggiamo i passaggi dal versetto 12 la situazione è questa poi l'eterno disse a Mosè sali sul monte su questo monte di abarim e contempla il paese che io do ai figlioli di Israele e quando l'avrai e quando l'avrai veduto anche tu sarai raccolto presso il tuo popolo come tu e come fu raccolto Aaron tuo fratello perché vi ribellaste all'ordine che vi detti nel deserto di Zin quando la raunanza si mise a contendere e voi non mi santificaste agli occhi loro a proposito di quelle acque sono le acque della contesa di Cades nel deserto di Zin quindi vedete fratelli qui il dio dice a Mosè gli preannuncia che sarebbe stato raccolto con i suoi padri quindi è venuta il momento Mosè di lasciare questa terra e Mosè ha chiesto poi andando avanti con la lettura Mosè ha fatto una richiesta a Dio sapendo quello che Dio gli ha detto che doveva dipartirsi e Mosè gli ha fatto questa richiesta qui nel versetto 27 15 leggiamo e Mosè parlò all'eterno dicendo l'eterno l'iddio degli spiriti d'ogni carne costituisca su questa raunanza un uomo che esca davanti a loro ed entri davanti a loro e li faccia uscire e li faccia entrare affinché la raunanza dell'eterno non sia come un gregge senza pastore e l'eterno disse a Mosè prenditi Giosuè figliolo di Nun uomo in cui è lo spirito poserai la tua mano su lui lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la raunanza gli darai i tuoi ordini e in loro presenza e lo farai partecipe della tua autorità affinché tutta la raunanza dei figlioli di Israele gli obbedisca egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar che consulterà per lui il giudizio dell'urim davanti all'eterno egli e tutti i figlioli di Israele con lui e tutta la raunanza usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo e Mosè fece come l'eterno gli aveva ordinato prese Giosuè e lo fece comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la raunanza posò su lui le sue mani e gli diede i suoi ordini come l'eterno aveva comandato per mezzo di Mosè quindi fratelli il Dio fece sapere a Mosè che era venuto il suo tempo di partirsi Mosè si da buon servitore di Dio si è preoccupato del gregge cioè non è che ha detto il Signore mi sta chiamando non mi interessa più niente no gli ha fatto poi una richiesta a Dio una richiesta che è giusta cioè l'eterno gli dice l'idio degli spiriti di ogni carne costituisca su questa raunanza un uomo affinché non sia un gregge senza pastore vedete cioè Mosè era un vero servitore di Dio e si è preoccupato del suo del gregge che su cui era stato posto a pasturare si è preoccupato sino alla fine cioè stava per partire e ha detto Signore costituisci qualcuno al posto mio per condurre questo grande gregge e Dio gli ha indicato gli ha indicato di Giosuè che sarebbe stato Giosuè dopo di lui a condurre il popolo e questo passaggio di autorità vedete è avvenuto appunto con l'imposizione delle mani di Mosè davanti a tutta la raunanza gli ha dato gli ordini lì davanti a tutti quindi qui l'imposizione delle mani vedete è stata usata sono state usate l'imposizione delle mani per un passaggio di una autorità particolare da Mosè a Giosuè c'è stato un passaggio di autorità davanti a tutta la raunanza quindi tutti quindi tutti hanno visto tutti hanno visto quello che Dio quello che Dio quello che Dio quello che Dio quello che Mosè quello che Mosè ha fatto a Giosuè tutti quindi hanno visto quello che Mosè ha fatto quindi Mosè impose le mani davanti a tutta la raunanza tutta la raunanza per affinché tutti vedessero che Mosè trasmetteva un'autorità a Giosuè quello che secondo quello che Dio gli aveva comandato ma ora vediamo che cosa avvenne praticamente uno dice imposizione delle mani ma cosa è successo ebbene qualcosa è successo all'imposizione delle mani di Mosè a Giosuè e questo lo leggiamo in Deuteronomio andiamo a leggere in Deuteronomio all'ultimi capitoli all'ultimo capitolo 34 al versetto 9 qui spiega quello che è avvenuto quando Mosè ha imposto le mani a Giosuè cos'è avvenuto che cosa è passato vedete una delle cose che è passata l'autorità è passata l'autorità ma è passata anche anche qualcosa che proviene da Dio e leggiamo in Deuteronomio al capitolo 34 al versetto 9 e Giosuè figliolo di Nun fu riempito dello spirito di sapienza perché Mosè gli aveva imposto le mani e i figlioli di Israele gli ubbidirono e fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè vedete Giosuè quando gli furono imposte le mani fu ripieno di che cosa dello spirito di sapienza dello spirito di sapienza e c'è scritto anche perché fu riempito di questo spirito di sapienza fu riempito di questo spirito qui al versetto 9 dice perché Mosè gli aveva imposto le mani vedete quindi l'imposizione delle mani è importante c'è questo passaggio di questo spirito di sapienza di questa autorità da Mosè a Giosuè il Dio aveva stabilito che ci fosse questo passaggio appunto attraverso l'imposizione delle mani quindi è una cosa vedete importante cioè con l'imposizione delle mani succede qualcosa c'è un passaggio di qualche cosa da chi impone le mani a chi invece riceve è questo che è scritto quindi questo noi che leggiamo e dobbiamo credere ma andando avanti andando avanti perché serviva a Giosuè quello spirito di sapienza perché Giosuè badate bene e con l'imposizione delle mani di Mosè gli fu data quell'autorità di guidare di guidare il popolo di Israele il grege di Israele che era un popolo grandemente numeroso era un popolo numeroso di conseguenza Giosuè aveva bisogno di sapienza badate bene di sapienza per governare quel popolo questo perché perché in effetti quando si governa un popolo quando si governa una comunità quando si conduce un gruppo un c'è bisogno di sapienza fratelli e sorelle senza sapienza non si va da nessuna parte e la sapienza è strettamente collegata allo spirito di Dio infatti qui lo chiamo lo spirito di fu ripieno dello spirito di sapienza fu riempito dello spirito di sapienza quindi è sempre un collegamento allo spirito di Dio però fa anche un particolare tipo di riferimento alla sapienza e questa sapienza è necessaria per poter amministrare la giustizia per poter governare un grande popolo perché governare un popolo poi ci sono molte problematiche che quando si è in pochi le problematiche sono poche ma quando il popolo cresce le problematiche moltiplicano e due si litigano e quello fa un torto a quell'altro e quell'altro fa questo e quello fa quell'altro e quindi e quindi il conduttore il pastore gli anziani e coloro che sono chiamati da Dio a condurre a dare no a dare una linea di una direzione al greggio di Dio al greggio del Signore hanno bisogno di sapienza hanno bisogno di intelligenza spirituale per poter ogni volta intervenire e determinare e arrivare a una a un qualcosa che è diciamo è correttamente è corretto ed è giusto davanti a Dio e questo lo leggiamo anche questa richiesta l'ha fatta l'ha fatta il re Salomone ben sapendo ben sapendo quindi che per governare per governare un grande popolo c'era bisogno c'era bisogno c'era bisogno di sapienza quando il Dio gli si mostrò in visione in sogno a a Salomone questi gli chiese a Dio appunto sapienza non gli chiese ricchezze non gli chiese di far morire i suoi nemici ma gli chiese sapienza perché Salomone aveva capito che per governare un grande popolo per governare in genere c'è bisogno di sapienza quindi uno degli elementi principali che devono avere coloro gli anziani di il pastore di una comunità è la sapienza perché devi sempre intervenire a risolvere determinati casi capire anche la situazione di determinati fratelli rispondere loro come si conviene quindi c'è bisogno di sapienza quella sapienza attenzione che viene da Dio non una sapienza carnale ma una sapienza spirituale quella che viene dall'alto come dice Giacomo i veri toni buoni e perfetti sono quelli che vengono dall'alto e quella sapienza che viene da Dio sui ministri di Dio sui anziani su tutti i servitori di Dio ma anche su tutti i singoli fratelli deve esserci sapienza perché tutti poi alla fine tutti i credenti sono chiamati a dover intervenire sempre a dover diciamo portare chiarezza dove c'è tenebre a portare luce dove c'è tenebre a portare chiarezza dove c'è disordine quindi ne abbiamo bisogno tutti e come dice Giacomo bisogna chiedere con fede sapienza ed egli ci darà sapienza perché ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno ne ha avuto bisogno anche anche il re Salomone infatti quando Salomone si recò a Gabaon ebbe un sogno quindi in prima re capitolo 3 al versetto 5 dal versetto 5 io devo restringere quando leggo i passi ma voi ve li segnate e ve li andate a leggere nel loro contesto più ampio nei capitoli in tutto il libro se è necessario ma io per brevità sempre vi faccio un'introduzione e vi leggo il passo che voglio commentare versetto 5 a Gabaon l'eterno apparve di notte in sogno a Salomone e Dio gli disse chiedi quello che vuoi quello che vuoi che io ti dia Salomone rispose tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide mio padre perché egli camminava dinanzi a te con fedeltà con giustizia con rettitudine di cuore a tuo riguardo di cuore a tuo riguardo tu gli hai conservata questa gran benevolenza e gli hai dato un figliolo che siede sul trono di lui come oggi avviene ora o eterno o mio dio tu hai fatto regnare me tuo servo il luogo di Davide mio padre e io non sono che un giovinetto e non come e non so come condurmi e il tuo servo è in mezzo al popolo che tu hai scelto popolo numeroso che non può essere contato né calcolato tanto è grande da dunque al tuo servo un cuore intelligente onde egli possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male poiché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso piacque al signore che Salomone gli avesse fatta una tale richiesta e dio gli disse già che tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita né ricchezze né la morte dei tuoi nemici ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto ecco io faccio secondo la tua parola e ti do un cuore savio e intelligente in guisa che nessuno è stato simile a te per lo innanzi e nessuno sorgerà simile a te in appresso vedete quindi il dio apparve in sogno a Salomone Salomone che era già stato stabilito quindi re successore di Davide sopra il popolo di Israele il dio gli disse chiedimi quello che vuoi e Salomone giustamente gli fece gli fece la richiesta giusta cosa gli serviva a Salomone per poter governare un popolo così grande gli serviva sapienza e intelligenza e questa gli è stata data e badate bene ciò è avvenuto anche con Giosuè quando Mosè gli impose le mani abbiamo visto abbiamo letto che ci fu Salomone scusate Giosuè fu riempito di uno spirito di sapienza e quindi questo spirito di sapienza che lo avrebbe aiutato a governare a guidare questo grande popolo ad amministrare la giustizia come dice qui Salomone a discernere il bene dal male anche perché il conduttore deve essere colui che poi va davanti a tutti i fratelli deve dare prima di tutto lui l'esempio in ogni cosa quindi deve prima saper discernere lui il bene dal male e dopo può dirlo agli altri quindi chi conduce chi si trova a dover condurre un gruppo deve deve leggere deve studiare deve guardare ciò che gli riguarda ciò che gli con ciò che diciamo interessa il suo tipo di incarico gli altri invece i fratelli che vedranno magari costituire su di loro un pastore degli anziani quello che è devono sapere queste cose perché così avvengono le cose possono avvenire anche vedete o appare il dio può stabilire in determinate maniere gli anziani o i pastori che vengono stabiliti davanti sopra un gregge ma può avvenire quindi in diversi modi ma può avvenire anche con l'imposizione delle mani certamente non deve avvenire attraverso rituali strani capite i rituali strani vanno rigettati e poi tutti devono guardare se ci sono le conferme perché ci devono essere poi le conferme da parte da parte di dio che che colui che è stato stabilito è appunto stato stabilito da dio quindi deve essere anche messo alla prova bisogna osservarlo questi e questo era per quanto riguarda diciamo un esempio di incarico passato dall'uno all'altro attraverso l'imposizione delle mani però preso dal vecchio testamento gli incarichi leggiamo anche nel nuovo testamento leggiamo se andiamo adesso nel libro degli atti atti degli apostoli quando furono scelti quando furono scelti i diaconi i diaconi per servire alle mense per servire le mense questi furono scelti dal popolo dalla chiesa e su di essi gli apostoli imposero le mani imposero le mani gli apostoli perché gli incaricarono di quel servizio e prima di incaricarli e gli imposero pregarono e imposero loro le mani leggiamo appunto al capitolo 6 di atti degli apostoli dal versetto 1 or in quei giorni moltiplicandosi il numero dei discepoli sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana e i dodici raunata la moltitudine dei discepoli dissero non è convenevole che noi lasciamo la parola di dio per servire alle mense perciò fratelli cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza pieni di spirito e di sapienza e che noi incaricheremo di quest'opera ma quante a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola e questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine ed elessero stefano uomo pieno di fede di spirito santo filippo procoro nicannore timone parmena nicola proselito di antiocchia e li presentarono agli apostoli i quali dopo aver pregato imposero loro le mani vedete quindi ci fu un problema ci fu un problema qui e si potrebbe parlare anche di tanti altri argomenti perché in certi passaggi biblici non è che conferma solo ad un tipo di insegnamento ce ne sono tanti ad esempio notate che gli apostoli non facevano tutto loro così come non deve fare tutto il pastore in una comunità addirittura qui si tratta di scegliere delle persone da incaricare per un determinato servizio infatti cosa dissero gli apostoli gli apostoli dissero alla chiesa capite scegliete voi tra di voi degli uomini naturalmente che dovevano avere determinate caratteristiche quindi quando 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 i dodici parlarono e dissero alla chiesa che dovevano scegliere degli uomini affinché fossero incaricati di questo servizio pongono dei limiti è chiaro non è che potevano scegliere a simpatia cioè il metodo di scegliere la persona a quel servizio bisogna che sia stabilito e soprattutto bisogna guardare le scritture bisogna guardare cosa dicono le scritture per stabilire qualcuno in un determinato ufficio o un determinato incarico perché deve per ogni incarico per ogni ufficio per ogni anche ministerio ci vogliono delle delle caratteristiche cioè il credente deve essere in possesso di determinate caratteristiche se non le ha queste caratteristiche non può prendere quel tipo di ufficio anche se lo desidera se non c'ha le caratteristiche cioè se uno vuole diventare anziano non parlo di ministeri perché i ministeri li dà solo il signore il signore gesù i doni di ministerio apostolo profeta evangelista pastore e dottore sono solo cinque i ministeri i ministeri li dà solo il signore nostro gesù cristo non li possono non possono essere scelti dagli uomini qui invece abbiamo visto che furono scelti diaconi capite quelli che dovevano servire alle mense quindi diaconi si possono essere scelti dalla chiesa così come possono essere scelti dalla chiesa anche gli anziani e badate bene anche gli anziani perché l'anziano non è un ministerio è un ufficio come lo è il diacono sono un ufficio mentre i ministeri sono solo cinque quelli il dono di ministerio viene distribuito dal signore gesù cristo personalmente sono doni particolari mentre per quanto riguarda l'incarico è l'ufficio di diacono e di anziano può essere dato possono scegliere le persone anche 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 la chiesa la chiesa può scegliere però non è che può scegliere chi vuole bisogna scegliere determinate persone che hanno determinate caratteristiche quindi quelle persone che hanno certe caratteristiche qui infatti i dodici parlando per scegliere i diaconi dissero che di trovare cercare di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza quindi se uno non ha una buona testimonianza non può neanche fare il diacono immaginatevi voi il pastore o o l'anziano se uno non ha una buona testimonianza da quelli di dentro da quelli di fuori anche badate bene dobbiamo anche con quelli di fuori cioè quelli che devono assumere un determinato ufficio e questo è importante poi dopo anche per gli anziani diaconi che in altri passaggi paolo comunica attraverso le lettere a timotio e tito gli dà proprio l'insieme delle caratteristiche che devono essere tutte presenti quindi non solo qualcuna ma tutte presenti affinché si possa scegliere qualcuno come diacono o come anziano quindi per scegliere per per incaricare qualcuno bisogna che questi abbia determinate caratteristiche ad esempio i sette dovevano avere queste caratteristiche dovevano avere buona testimonianza dovevano essere pieni di spirito e di sapienza vedete quindi doveva vedete anche qui c'è la sapienza e sì perché quando si serve il signore c'è bisogno di sapienza come si fa a servire il signore in mezzo a tanti fratelli senza avere la sapienza che viene da dio per poter capire quello che dice il fratello e potergli rispondere secondo diciamo secondo verità secondo quello che lo spirito santo ci guida a rispondere secondo quanto è scritto anche nella parola di dio qui la sapienza la sapienza è sempre presente vedete ecco perché giacomo dice di chiedere chi manca di sapienza la chieda a dio questo è importante chi manca di sapienza la chieda a dio perché gli dona a tutti liberalmente senza rinfacciare però naturalmente bisogna chiedere con fede quindi chiedete quando pregate ricordatevi di chiedere a dio sapienza perché è cosa buona davanti al signore ora una volta che portarono una volta che questi sette uomini che avevano quelle caratteristiche che li scelsero la chiesa li scelse quindi non scelsero solo gli apostoli non scelse solo una persona ma scelse la chiesa vedete la chiesa è parte attiva è parte attiva nell'opera di cristo cioè non è che la chiesa sono quelli seduti ai banchi che non devono dire nulla non devono fare nulla e non hanno nessun incarico no sono chiamati in causa continuamente dalla parola di dio quindi devono sono tutti attivi cioè non esiste un credente che deve stare solo seduto è chiaro che se è messo in ammunizione sotto disciplina allora si deve stare zitto non deve parlare deve può stare presente però deve stare diciamo zitto tranquillo e ascoltare aspettare il suo momento quando le cose si miglioreranno per lui se in disciplina se si trova in una certa situazione ma negli altri casi al culto alle opere all'evangelizzazione a quelle cose che la chiesa è chiamata a compiere nel culto a dio e anche nel fare delle opere verso il mondo in mezzo al mondo e sono chiamati tutti secondo la grazia che dio gli ha dato sono chiamati tutti ad operare tutti non devono esserci non ci devono essere disoccupati nella chiesa nella chiesa degli dio viventi ci possono essere parcheggiati quelli che per un motivo stanno aspettando per qualcosa che è successo stanno aspettando momenti migliori poi ci sono anche le espulsioni e nella disciplina se uno non si conduce bene e non si ravvede rimane poi l'espulsione cioè espellere dal gruppo un elemento dannoso che ti può contaminare anche gli altri è una cosa purtroppo che bisogna fare quando quando viene il momento bisogna fare anche questo ma vedete che bisogna fare anche questo e per fare questo cosa serve fratelli serve autorità che viene da dio e serve sapienza oltre che conoscenza della parola perché perché manca non vi siete mai chiesti ma perché manca la disciplina nelle chiese di oggi perché manca quell'autorità nei conduttori nell'anziano nei passi negli anziani nel pastore ma manca fratelli perché quelle per la maggior parte delle persone io voglio essere ottimista voglio essere ottimista nella maggior parte delle persone non c'è quell'autorità da parte di dio perché non sono stati messi dallo spirito santo lì non sono stati messi dallo spirito santo ma si sono messi da loro stessi o erano figli di pastori che hanno studiato anche loro alla scuola biblica e li hanno messi lì o se no sono molto amici del pastore e li fanno anziani capite ma non è che vengono scelti oggi come come abbiamo visto che i dodici apostoli hanno dato incarico alla chiesa di scegliere determinate persone per quell'incarico che avessero determinate caratteristiche non avviene così ecco quindi che manca la disciplina nella chiesa non viene applicata la disciplina non si mette nessuno a tacere non si mette non viene espulso nessuno dalla chiesa non viene cacciato via il disordinato il peccatore l'adultero il fornicatore il ladro perché il bugiardo non vengono messi in disciplina ma perché non c'è autorità non c'è autorità non c'è l'autorità di dio non gli interessa a costoro applicare la disciplina di dio non gli interessa perché se gli interessasse l'applicavano l'avrebbero applicata ma siccome non l'applicano perché perché non gli interessa loro interessa solo che ci sia più gente possibile a loro non interessa la qualità delle persone a loro interessa il numero delle persone a noi invece è a dio e a cristo se voi leggete le scritture non si è mai dato da parte di dio è un grande interesse al numero ma più che altro si è dato molto interesse alla qualità delle persone sia in battaglia e sia in tutte le opere che noi leggiamo nelle scritture quello che contava di più era la qualità delle persone non il numero e quindi vedete nell'incarico nel nell'incarico di queste sette persone furono incaricati fu dato l'incarico a sette persone che ne erano degne non fu dato l'incarico furono scelti dagli anzi dalla chiesa furono portati dagli anziani sicuramente gli anziani li conoscevano oppure avevano ricevuto buona testimonianza da loro o c'erano dei dei testimoni comunque sicuramente qualche indagine qualche cosa o li conoscevano direttamente personalmente cioè non hanno trovato nulla in contrario per poterli stabilire come diaconi al servizio delle mense alle mense e cosa è successo è successo che quando come lo diedero l'incarico gli apostoli lo diedero davanti a tutti come avvenne anche per per giosuè no lo diedero davanti a tutti davanti a tutta la chiesa imponendo le mani a questi sette furono loro imposte le mani davanti a tutta la chiesa quindi la chiesa vedeva anche visivamente con gli occhi che la chiesa trasme gli apostoli trasmettevano un incarico attraverso l'imposizione delle mani trasmettevano un'autorità un un incarico a queste sette persone questo serviva per dare appunto autorità a questi sette affinché tutti sapessero che furono stabiliti che erano stati stabiliti dagli apostoli erano stati scelti dalla chiesa capite in più erano stati stabiliti dagli apostoli quindi voglio dire erano tutti concordi che che questi questi fratelli dovevano fare dovevano assumere questo ufficio di servire alle mense erano tutti concordi e badate bene sto facendo questo discorso adesso per arrivare per arrivare ad un altro passaggio biblico molto importante che noi leggiamo in prima timoteo perché in prima timoteo c'è un'esortazione dell'apostolo paolo a timoteo di non imporre un'esortazione di non imporre le mani precipitosamente quindi vedete noi abbiamo visto che per il servizio il servizio gli incarichi gli uffici la guida del popolo era dato per l'imposizione delle mani però l'apostolo paolo ha scritto a timoteo ha scritto a timoteo avvertendolo appunto che non avrebbe non sarebbe dovuto non sarebbe dovuto essere troppo leggero nell'imporre le mani cioè prima prima timoteo capitolo 5 al versetto 22 dice così non imporre con precipitazione le mani ad alcuno e non partecipare ai peccati altrui conservati puro cosa vuole dire qui qui innanzitutto il contesto sta parlando degli anziani in modo particolare allora comunque si sta riferendo qui sta l'apostolo paolo ha dato delle istruzioni a timoteo queste qui le istruzioni erano queste cioè non scegliere per un servizio quindi non imporre le mani vedete viene usato come un sinonimo di scegliere per un servizio qualcuno non essere troppo frettoloso ma tu bisogna che bisogna accertarsi no come abbiamo visto le caratteristiche che dovevano avere i sette diaconi che come abbiamo letto visto in precedenza qui anche e tutti quelli che vengono incaricati di di un di un servizio di fare un servizio per la chiesa nel nome di gesù cristo e devono devono avere determinate caratteristiche cioè non possono essere scelti anche se un apostolo a scegliere la persona non può farlo alla leggera perché se questo non ha una buona testimonianza non ha sapienza non ha uno spirito di intelligenza e non può fare quel tipo di servizio e non è quindi riconosciuto dalla chiesa praticamente si combinano solo guai quindi nel scegliere una persona in un incarico non 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 si deve non lo si deve fare troppo frettolosamente anzi bisogna andare cauti e qui è questo quello che vuole dire l'apostolo paolo non imporre con precipitazione cioè non scegliere frettolosamente le persone da mettere in determinati servizi da 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 incaricare per determinati servizi non essere frettoloso aspetta vada bene che abbiano tutti gli elementi e le caratteristiche che devono avere per assumere tale ufficio è questo che vuole dire infatti se queste persone sono persone sbagliate o persone che vivono nel peccato facendo l'imposizione davanti a tutta la chiesa cosa succede succede che anche se anche se lui non lo sa e non ha fatto magari delle delle indagini qui stiamo parlando di di incaricare ad un servizio stiamo parlando di incarico di servizio non tutti i casi in cui si impongono le mani ma il caso stiamo esaminando il caso in cui si impongono le mani per incaricare qualcuno per un servizio ecco in questo caso se uno non si accerta di chi di chi sta incaricando e gli impone le mani praticamente partecipa al peccato di lui se questo vive nel peccato se questo che sta incaricando il ministro gli anziani stanno incaricando di un servizio se questo vive nel peccato non è non ha le caratteristiche che dovrebbe avere non ce le ha anzi e magari e vive nel peccato praticamente succede che anche chi gli impone le mani partecipa al peccato di lui perché come dire se quello è un adultero non si costituisce al servizio alle menze un adultero gli impongono le mani e la chiesa che magari conosce che quello è un adultero guarda dice ma guarda un po quello quindi lo sta diciamo gli sta dando una autorità quando non la merita e questo praticamente fa scadere agli occhi della chiesa anche colui che impone le mani ecco quindi vedete c'è un rischio anche di chi da parte di chi ha l'incarico di imporre le mani c'è un rischio anche da parte sua quindi non bisogna essere frettolosi nell'imporre le mani nel qui nel senso che nello stabilire qualcuno in un determinato ufficio non bisogna avere fretta ma bisogna fare i dovuti accertamenti perché qui si deve dare un incarico non è che si sta pregando per un'altra cosa tipo la guarigione capito non è che ma qui per l'incarico invece bisogna prendersi il tempo necessario per accertarsi ascoltare qualche testimonianza prima di stabilire prima di stabilire qualcuno in un determinato servizio in un determinato ufficio cioè bisogna farlo considerando tutte le cose necessarie per stabilire qualcuno in quell'ufficio in base al tipo di ufficio se di anziano o diacono ad esempio le donne è scritta la parola che non possono essere non possono fare l'anziano possono essere incaricate di svolgere il servizio del diacono perché perché al diacono non è non è necessario che sia capace ad insegnare ad esempio il diacono o il diacono in genere non ha come elemento obbligatorio quello di saper insegnare devi avere sempre buona testimonianza e altre caratteristiche ma non ha l'obbligo di avere la capacità di insegnare l'anziano invece tra le caratteristiche che deve avere c'è quella lì che deve essere capace di insegnare atto ad insegnare quindi siccome la scrittura vieta alle donne di insegnare è l'anziano l'ufficio di anziano e diciamo tra le tra le caratteristiche che deve avere l'anziano cioè quella di saper insegnare ecco quindi automaticamente la donna è esclusa per da tutti gli uffici di anziano appunto per questa caratteristica che deve avere quella capacità di insegnare che la donna non ha perché dio ha stabilito in questa maniera non è che abbiamo riguardi personali verso le donne ma ma noi diciamo alle donne quello che dobbiamo dirgli per quanto riguarda le scritture ma anche a tanti uomini dobbiamo dire che non sono adatti a svolgere il compito di anziano ci sono anche molti uomini che non sono adatti e quindi perché non hanno la capacità di insegnare se hanno le altre se hanno le altre chi ha se non hanno la capacità di insegnare perché l'anziano tra gli incarichi che deve assumere c'è anche quello di insegnare se gli uomini non hanno la capacità di insegnare non possono prendere l'ufficio non possono essere assunti all'ufficio di diacono e di anziano scusate ma possono comunque ricoprire se hanno le altre caratteristiche ricoprire il ruolo di di diacono così come anche le donne le donne per parlare ancora delle donne hanno un'apertura anche al ministerio di profeta non è che le donne i ministeri non li ricevono ricevono anche il ministerio di di profeta alle donne è aperto questo ministerio perché la scrittura ci insegna che in israele c'erano delle profetesse quindi quindi c'erano le profetesse di conseguenza non 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 è vietato il ministerio di profeta alle donne perché badate bene anche il ministerio di profeta non c'ha in sé non ha non è obbligatorio avere la capacità di insegnare o saper insegnare la parola il profeta il compito del profeta è ricevere da dio le rivelazioni e passarle così come sono agli uomini come dio ce li ha date quindi vedete una sorta di test più testimonianza no più di passaggio di di un messaggio che riportare così com'è non aggiungere spiegare allungare restringere no non questo assolutamente questo non lo devono fare nelle profette nelle profetesse e neanche i profeti uomini di allungare di restringere quello devono rivelare le cose che dio devono raccontare le rivelazioni che dio ha dato loro ma torniamo torniamo al nostro testo quindi avete visto che paolo esorta timoteo attenzione questa esortazione è importante perché vista nel contesto dell'epistola timoteo fu lasciato c'è scritto al capitolo 1 versetto 3 ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in macedonia di rimanere ad efeso per ordinare a certuni che non insegnano dottrina diversa né si occupino di favole di genealogie senza fine le quali producono questioni anziché promuovere la dispensazione di dio che è in fede in pratica praticamente paolo lasciò timoteo ad efeso per mettere in ordine la chiesa le chiese che si erano lì formate quindi gli da con queste pistole due pistole gli da delle istruzioni perché timoteo era giovane e paolo gli dava delle istruzioni per poter per poter compiere il proprio servizio nella nella maniera nella maniera migliore possibile secondo la volontà di dio tra tutte le istruzioni che paolo gli ha dato le esortazioni e i consigli c'è anche questa di non imporre non imporre con precipitazione le mani ad alcuno cioè vuole dire sì devi stabilire degli anziani devi fare in modo che siano stabiliti diaconi però bada bene bada bene che non puoi essere frettoloso nel scegliere le persone che dovranno essere incaricate di quel servizio ma dovrà dovrai badare bene che abbiano determinate caratteristiche che abbiano anche una buona testimonianza no vi ricordate diaconi i sette diaconi dovevano avere anche una buona testimonianza quindi bisogna sentire anche dei testimoni sulle persone che si stanno scegliendo ma l'imposizione delle mani viene e diciamo è un atto che viene compiuto anche per altre motivazioni ad esempio in atti prima di partire dopo che furono scelti i nati degli apostoli quando erano in antiochia prima di partire furono loro imposte le mani da dalla chiesa capitolo 13 di atti dal versetto 1 or nella chiesa di antiochia vi erano dei profeti e dei dottori barnaba simeone chiamato niger lucio di cirene manan fratello di latte di erode il tetrarca e saulo e mentre celebravano il culto del signore e digiunavano lo spirito santo disse mettettemi a parte barnaba e saulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato e pregato imposero loro le mani e li accomiatarono vedete per la partenza qui per una benedizione la chiesa che pregò e digiunò pregò e digiunò imposero poi le mani a paolo e a barnaba per diciamo salutarli per l'incarico a cui lo spirito santo li aveva chiamati voglio soffermarmi un po anche su perché una volta che si incontrano certi passaggi non si può che farli notare qui c'è scritto mentre celebravano il culto del signore digiunavano quindi durante il culto diciamo anche digiunavano questo a conferma che anche nel nuovo testamento è rimasta la pratica del digiuno quindi i fratelli che pregano anche durante il culto possono digiunare quindi il digiuno è una cosa buona davanti a dio non è una cosa passata terminata è una cosa buona e parleremo in un'altra sede anche anche di di questo del digiuno ma oltre al digiuno volevo farvi farvi vedere meglio questo passaggio lo spirito santo disse vedete cioè quando c'è scritto così vuol dire che lo spirito santo parlò e tutti lo udirono lì lo udirono cioè ha parlato lo spirito santo perché così è scritto e così noi lo prendiamo quando il dio parla attraverso un profeta una profezia una un sogno una visione parla in quella maniera ma qui c'è scritto che parlò direttamente lo spirito santo è così è scritto e così noi dobbiamo credere questo lo voglio rimarcare fratelli perché perché ancora oggi come avvenuto tempo fa può parlare ancora oggi lo spirito santo con una voce audibile una voce la voce dello spirito santo quindi dovete sapere anche questo e credere anche questo perché così è scritto e così noi dobbiamo credere comunque furono vedete imposero loro le mani per la dipartenza e li salutarono praticamente li accompagnarono li diedero la loro benedizione per l'incarico alla quale lo spirito santo li ha chiamati e furono loro imposte le mani poi adesso leggiamo anche altri passaggi sempre rimanendo in atti degli apostoli dei passaggi biblici in cui vediamo vediamo che l'imposizione delle mani viene viene fatta affinché le persone ricevano ricevano il battesimo con lo spirito santo perché il battesimo con lo spirito santo si può ricevere anche senza imposizione delle mani però a certuni qui siamo in presenza di un di una cosa particolare cioè a certi servitori di dio che quindi non hanno tutti ma solo quelli a cui dio ha dato questa questa possibilità a questa potenza gli ha dato la possibilità di a certi servitori di dio di imporre le mani affinché le persone a cui hanno imposte le mani ricevano il battesimo con lo spirito santo e vediamo infatti in atti cominciamo con atti degli apostoli al capitolo 8 leggiamo dal versetto 14 or gli apostoli prima faccio una premessa c'era Filippo l'evangelista che andò si trovò a Samaria annunziò l'evangelo i demoni erano cacciati dai samaritani le malattie erano guarite accettarono la parola dell'evangelo furono battezzati in acqua ma ancora non avevano ricevuto il battesimo con lo spirito santo non lo avevano ricevuto perché sicuramente siccome diciamo Filippo aveva dei doni infatti cacciava i demoni guariva gli infermi ma non aveva nessuno ricevuto il battesimo con lo spirito santo questo cosa ci fa capire dalla scrittura ci fa capire che Filippo non aveva quell'autorità di imporre le mani e far ricevere il battesimo con lo spirito santo cosa che invece avevano gli apostoli perché badate bene Filippo era evangelista vedete un ministerio il ministerio di apostolo è diverso dal ministerio di evangelista il ministerio di apostolo è quello più che ha maggiore potenza in assoluto necessita un apostolo di più potenza e di doni da Dio per l'incarico gravoso che ha è chiaro perché deve andare creare comunità nuove dove 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 in nuove nazioni nuovi luoghi deve ammaestrarli per diciamo fortificare la chiesa per farla crescere poi dopo stabilire degli anziani pastori secondo la volontà di Dio e poi ripartono gli apostoli però vedete l'apostolo è diciamo degli incarichi molto gravosi un po' più più completi in linea generale mentre per quanto riguarda l'evangelista il compito principale il compito principale è quello di annunziare l'evangelo ai perduti anche guarendo le infermità e cacciando i demoni questo è una è diciamo in linea generale ecco l'incarico dell'evangelista cosa avvenne quindi i samaritani ricevettero l'evangelo che annunziò annunziò filippo l'evangelista ricevettero l'evangelo però non ricevettero il battesimo con lo spirito santo perché quella azione lì quella potenza quella autorità il Dio non gliel'aveva data all'evangelista ma l'aveva data agli apostoli infatti a Gerusalemme udito che la Samaria aveva ricevuto l'evangelo mandarono Pietro e Giovanni perché mandarono Pietro e Giovanni? ecco adesso noi leggiamo questo perché al versetto 14 quindi atti 8 14 or gli apostoli che erano a Gerusalemme avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio vi mandarono Pietro e Giovanni i quali essendo discesi là pregarono per loro affinché ricevessero lo spirito santo poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo spirito santo quindi vedete all'imposizione delle mani degli apostoli i samaritani che avevano già creduto erano già stati battezzati in acqua erano già salvati ma all'imposizione delle mani degli apostoli ricevettero la potenza dello spirito santo quindi vedete ricevettero i samaritani per l'imposizione delle mani degli apostoli Pietro e Giovanni ricevettero il battesimo con lo spirito santo qui Giova ancora fa un ragionamento continuando al versetto 18 or Simone vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo spirito santo offerse loro del denaro dicendo date anche a me questa potestà che colui al quale io imponga le mani riceva lo spirito santo questo passaggio va letto attentamente bene fratelli e sorelle perché purtroppo alcuni lo leggono e lo associano subito al fatto che Simon Mago ha pregato per ricevere lo spirito santo cioè ha pagato scusate che Simon Mago voleva pagare per ricevere lo spirito santo ma non c'è scritto così qui c'è scritto Simone vedendo che per l'imposizione delle mani quindi questo che vide Simon Mago è una conferma di quello che stiamo dicendo noi cioè era l'imposizione delle mani che provocava, produceva il passaggio dello spirito santo in quelle persone quindi era importante l'imposizione delle mani infatti Simone vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo spirito santo offerse loro del denaro dicendo date anche a me questa potestà che colui al quale io imponga le mani riceva lo spirito santo cioè Simon Mago voleva comprare la possibilità di imporre lui le mani su qualcuno e fargli ricevere il battesimo con lo spirito santo questo voleva comprare non lo spirito santo naturalmente è stato ammonito redarguito gravemente da Pietro non è che non è stato ammonito però bisogna leggere come è scritto cioè bisogna capire bene quello che è scritto qui Simon Mago quindi voleva comprare l'autorità la potestà di imporre le mani era quello che date anche a me questa potestà di imporre le mani praticamente affinché le persone a cui lui imponeva le mani non ricevesse il battesimo con lo spirito santo questo cosa ci fa capire anche è che l'imposizione delle mani non si acquista col denaro non è che se io faccio delle offerte do qualcosa Dio ricevo quel dono no assolutamente no questi sono doni che dà questa potestà che la dà il Signore a chi vuole lui come vuole lui al limite noi se siamo desiderosi e lo dobbiamo essere dobbiamo desiderare i doni potenti di Dio dobbiamo pregare Dio che ci doni questa potestà dobbiamo pregare Dio che ci doni tutto quello di cui abbiamo bisogno questo sì possiamo pregare e domandare quello che ci sentiamo di chiedere ma non possiamo comprare nessun dono di Dio nessuna potestà nessuna autorità si può comprare con il denaro niente e da qui da questo passaggio poi è nata nata la cosiddetta il peccato di simonia quando si vogliono comprare appunto molto molto diciamo conosciuta in ambito cattolico romano perché perché il peccato di simonia era praticato notevolmente nella Chiesa Cattolica e lo è ancora oggi perché tu paghi e ottieni qualche cosa da Dio tu paghi e ottieni le indulgenze il perdono dei tuoi peccati dai soldi compri con i soldi e ti diciamo ti compri l'indulgenza per il perdono dei peccati cosa che noi sappiamo bene che non è biblica è una pratica un qualcosa che non è biblico perché 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 i doni di Dio non si possono comprare col denaro i doni di Dio si possono domandare e se Dio vuole se è secondo la sua volontà li distribuisce come egli vuole ma non si possono assolutamente comprare e questo era diciamo abbiamo visto in Samaria che per l'imposizione delle mani degli apostoli Pietro e Giovanni ricevevano ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo furono riempiti di Spirito Santo ma anche Paolo per l'imposizione dell'apostolo Paolo andando avanti in Efeso sì perché eravamo in Samaria lì adesso andiamo in Efeso quindi ci passiamo dalla Samaria andiamo in Efeso dove c'erano dei discepoli Paolo incontrò in quella città dei discepoli e stanno scritte queste parole 19.1 di Atti degli Apostoli or avvenne mentre Apollo era a Corinto che Paolo avendo attraversato la parte alta del paese venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste ed essi a lui non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo ed egli dissero loro ed egli disse loro di che battesimo siete dunque stati battezzati ed essi risposero del battesimo di Giovanni e Paolo disse Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui cioè in Gesù udito questo furono battezzati nel nome del Signor Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani lo Spirito Santo scese loro e parlavano in altre lingue e profettizzavano erano in tutto circa dodici uomini vedete quindi Paolo incontrò questi discepoli sicuramente parlando con loro capì che a loro mancava qualcosa infatti la domanda era volta di Paolo non per sapere se erano credenti perché l'aveva capito subito Paolo che benché discepoli di Giovanni Battista benché discepoli che avevano creduto nella dottrina nel messaggio di salvezza di Giovanni Battista perché era un messaggio di salvezza anche quello di Giovanni Battista non è che Giovanni Battista al messaggio di Giovanni Battista chi si convertiva non era salvato era salvato era un messaggio di evangelizzazione anche quello chi credeva in quel messaggio era salvato quindi diventava discepolo di Gesù Cristo ora incontrati questi discepoli Paolo si rese conto che mancava loro qualcosa o dal parlare o qualcosa comunque si rese conto che gli mancava qualcosa e allora gli fa delle domande e poi alla fine va a finire e capisce che non erano ancora stati battezzati nel nome del padre del figlio e dello spirito santo cioè nel nome di Gesù nell'autorità che Gesù dà ma con la formula trinitariana chiaro come Gesù stesso ha ordinato in Matteo 28 ha ordinato di battezzare in acqua con quella formula e noi oggi ancora oggi battezziamo in acqua e siamo stati battezzati in acqua nel nome del padre del figlio e dello spirito santo e battezziamo in acqua nel nome del padre del figlio e dello spirito santo e una volta battezzati in acqua Paolo impose loro le mani e dopo infatti dicendo dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani che significa che non prima non prima dell'imposizione delle mani ma dopo l'imposizione delle mani ricevettero il battesimo con lo spirito santo con il segno delle lingue perché il segno delle lingue accompagna accompagna ogni battesimo con lo spirito santo e Paolo imposta le mani ricevettero appunto lo spirito santo e questo era un altro un altro passaggio ancora anche Paolo impose le mani anche a Timoteo per ricevere il battesimo con lo spirito santo infatti leggiamo sempre nell'epistola di Paolo a Timoteo nella in questo caso nella seconda nella seconda leggiamo queste parole seconda epistola capitolo 1 versetto 6 per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mie mani poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità ma di forza e d'amore e di correzione vedete dal passaggio successivo qui dice qui Paolo dice di ravvivare il dono che era in lui che aveva ricevuto perché Paolo stesso gli aveva imposto le mani questo dono continuando a leggere appunto il versetto 7 Dio ci ha dato uno spirito vedete non ci ha dato uno spirito di timidità quindi è chiaro che ma di forza ci ha dato qui sta parlando dello spirito santo che abbiamo ricevuto quindi quindi parla dello sta parlando dello spirito santo quindi anche prima ha parlato dello spirito santo il dono dello spirito santo è un altro modo di dire di chiamare il battesimo con lo spirito santo può essere chiamato anche il dono di Dio come è scritto qui e in questo caso Timoteo questo dono dello spirito santo il battesimo con lo spirito santo l'ha ricevuto Timoteo l'ha ricevuto per la imposizione delle mani di dell'apostolo Paolo ma non solo non solo adesso questo magari sull'imposizione delle mani per ricevere il battesimo con lo spirito santo è una cosa magari nota cioè più conosciuta però una cosa che è meno nota è questa che sempre per l'imposizione delle mani si possono trasmettere ai fratelli ai discepoli di Cristo anche dei doni spirituali questo è una cosa meno conosciuta di cui non ho mai sentito parlare in giro da nessuna parte una volta mi sono trovato io a parlarne con qualcuno delle Adi e sono tacciato sono stato tacciato per eretico ma adesso leggiamo le scritture e vediamo cosa dicono a questo proposito la questione è questa che si può naturalmente sempre parlando non è che tutti possono imporre le mani per distribuire i doni spirituali e neanche il battesimo con lo Spirito Santo non è che tutti ma solo a quelli a cui Dio l'ha dato solo a quelli a cui Dio l'ha dato e le cose l'autorità e la potestà che Dio può dare rientra anche quello di imporre le mani per far ricevere ai credenti anche dei doni spirituali i doni spirituali che troviamo scritti al capitolo 12 di Prima Corinzi l'elenco dei nove doni spirituali di cui parleremo in un altro momento più dettagliatamente ma che si trovano appunto scritti al capitolo 12 dal versetto 7 11 Prima Corinzi 12 7 11 ve lo andate poi voi a leggere quell'elenco dei doni i doni spirituali possono essere quindi trasmessi dall'uno all'altro naturalmente se Dio gli ha dato a chi impone le mani se gli ha dato l'autorità e la potestà di farlo non è che tutti adesso possono imporre le mani per questa cosa e leggiamo leggiamo queste parole adesso andiamo alla prima epistola di Paolo a Timoteo capitolo 4 al versetto 14 non trascurare non trascurare il dono che è in te il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani dal collegio degli anziani vedete questo avvenne in questa maniera praticamente gli fu imposto a Timoteo gli furono imposte le mani dal collegio degli anziani qui furono gli anziani quindi che imposero le mani a Timoteo e ci fu anche una profezia in questo passo non c'è scritto quale dono spirituale Timoteo ha ricevuto non c'è scritto ma c'è scritto che ricevete un dono per l'imposizione delle mani un dono spirituale per l'imposizione delle mani del collegio degli anziani e per l'occasione ci fu anche una profezia un messaggio in lingua comprensibile da Dio attraverso la bocca di una persona di un credente che ha dato un messaggio avrà rivelato qualcosa avrà detto qualcosa che riguardava appunto questo dono spirituale donato a a Timoteo quindi il collegio degli anziani che abbiamo visto qui che ha imposto le mani a Timoteo e questi ha ricevuto un dono spirituale ed è confermato anche dall'Apostolo Paolo ancora adesso dobbiamo andare nell'Epistola di Paolo ai Romani sempre al primo capitolo al primo capitolo al versetto 11 quindi dal versetto 11 Romani 1 11 poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati vedete quindi anche qui abbiamo letto che è possibile per l'imposizione delle mani anzi così è stabilito da Dio che a taluni può essere data una particolare autorità in questo caso era l'Apostolo Paolo cioè mentre per Timoteo il dono spirituale è stato distribuito è stato donato attraverso l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani quindi vedete il collegio degli anziani mentre qui è stato è Paolo che vuole incontrare il desiderio di Paolo quando ha scritto quest'Epistola era di incontrare i Romani affinché gli potesse comunicare qualche dono spirituale capite cioè lui per l'imposizione sicuramente delle mani avrebbe potuto trasmettere far comunicare ai Romani anche dei doni spirituali perché così è scritto poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi per comunicarvi qualche dono spirituale quindi usa anche il plurale qua quindi sicuramente era nelle intenzioni di Paolo trovare i Romani andare a trovare i Romani e trasmettere loro dei doni spirituali in base alle esigenze in base anche alla volontà di Dio è chiaro cioè non è che i doni spirituali vanno entrano nel credente passano nel credente da uno all'altro secondo la volontà dell'uomo no anche i doni spirituali perché è lo Spirito Santo che distribuisce i doni spirituali come lui vuole quindi l'uomo il credente il servitore di Dio impone le mani come diciamo è giusto che faccia ed è scritto però poi è lo Spirito Santo quello che dà i doni spirituali non è l'uomo solo che la scrittura ci dice che è possibile che sia data all'uomo un'autorità particolare che imponendo le mani a qualcuno questi ricevi anche dei doni spirituali questo la scrittura dice è così noi dobbiamo credere ora andiamo andiamo anche a leggere qualcosa che riguarda la guarigione perché l'imposizione delle mani è legata anche alle guarigioni alle guarigioni da determinate malattie infatti in Marco all'ultimo capitolo di Marco stanno scritte queste parole Marco 16 leggiamo dal versetto 17 Marco 16 17 or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio cacceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno vedete quindi quindi l'imposizione delle mani l'imposizione delle mani può essere fatta anche per dare per trasmettere una benedizione particolare a colui che è infermo e malato affinché sia guarito ed è uno dei segni dei credenti questo questo fa parte dei segni dei credenti quindi si può imporre le mani a coloro che sono infermi affinché siano guariti così la scrittura ci insegna e così dobbiamo credere e così dobbiamo praticare capite naturalmente sempre con fede perché dobbiamo credere la cosa che dobbiamo credere è che se siamo a posto con Dio pratichiamo e crediamo che possa esserci un passaggio di una autorità di una benedizione di una guarigione imponendo le mani questa avverrà perché avviene per fede naturalmente se è secondo la volontà di Dio sempre certo bisogna stare attenti a non imporre le mani anche qui frettolosamente non è che adesso il primo che viene imponiamo le mani bisogna andare cauti sempre però è una possibilità perché è scritta nella parola di Dio che si può imporre le mani per far ottenere una guarigione alle persone a cui si impongono le mani anche indietro andando indietro sempre in marco vediamo che l'imposizione delle mani la scrittura ci dice che è strettamente connessa strettamente legata alla guarigione o meglio la guarigione in alcuni casi è strettamente legata all'imposizione delle mani in questo caso era Gesù che imponeva le mani e al capitolo 6 al versetto 5 dice e non poté far quivi a Nazareth qui siamo a Nazareth nel paese non Natale nel paese dove Gesù visse Gesù è nato a Betlemme e visse però a Nazareth ecco quindi l'hanno visto crescere lì la popolazione nazarena l'ha visto crescere a Nazareth e in quella città fece dei miracoli però guardate bene cosa dice qui la scrittura e non poté far quivi alcuna opera potente salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì vedete una conseguenza cioè non furono tanti a Nazareth proprio nella città dove lo conoscevano a Gesù dove era cresciuto però ad alcuni anche lì Gesù impose le mani vedete e li guarì cioè per l'imposizione delle mani questi malati ottennero la guarigione dalle loro malattie quindi Gesù impose loro le mani e furono guariti anche nel Vangelo di Luca leggiamo una imposizione delle mani e una guarigione capitolo 4 del Vangelo di Luca a versetto 40 e sul tramontare del sole tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno quindi vedete l'imposizione delle mani qui vuole dire a ciascuno vuole dire personalmente ad un ad uno imponeva le mani personalmente ad uno ad uno e cosa succedeva che per l'imposizione delle mani questi infermi questi malatti venivano guariti vedete Gesù imponeva le mani e questi venivano guariti ancora prendiamone un altro esempio di guarigione ottenuta per l'imposizione delle mani sempre mantenendoci nel Vangelo di Luca capitolo 13 versetto 12 leggiamo dal versetto 11 ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun modo e Gesù vedutala la chiamò a sé e le disse donna tu sei liberata dalla tua infermità e pose le mani su lei ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava il Dio quindi vedete nel momento in cui c'era questa donna inferma che era tutta curva quando nel momento in cui qui dice in quell'istante cioè in quell'istante in cui Gesù pose in questo caso vedete pose le mani su lei la toccò pose sopra di lei le mani in quell'istante proprio in quell'istante fu guarita completamente questa donna quindi attraverso l'imposizione attraverso l'imposizione delle mani è avvenuto è avvenuta anche anche questa questa guarigione ora l'imposizione può essere può essere diciamo fatta anche per quanto riguarda un semplice passaggio di una benedizione generale di una benedizione generica e questo lo leggiamo dobbiamo tornare nel Vangelo di Marco quando Gesù benediceva i fanciulli quando Gesù benediceva i fanciulli quindi Marco 10 dal versetto 13 la parola dice così or gli presentavano dei bambini perché li toccasse ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano e Gesù veduto ciò si indignò e disse loro lasciate i piccoli fanciulli venire a me non glielo vietate perché di tali è il regno di Dio in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà appunto in esso e presi l'imbraccio ed imposte loro le mani li benediceva vedete ora siccome abbiamo visto che per la maggior parte delle volte c'era un'imposizione delle mani per un incarico c'era il passaggio di sapienza e di intelligenza per il battesimo con lo spirito santo per le guarigioni per i doni spirituali c'era un passaggio di qualcosa di un'autorità di una potenza di una benedizione che veniva da Dio passava attraverso diciamo quelle mani e scendeva e scendeva sulla persona a cui erano imposte le mani quindi dobbiamo capire dobbiamo credere che anche qui quando Gesù ha imposto le mani a questi fanciulli sicuramente una benedizione particolare è scesa su di loro ed è questo che avveniva quindi per l'imposizione delle mani fratelli vedete avete visto a quante cose servono l'imposizione delle mani per quali motivi si può imporre le mani ai fratelli agli increduli anche per una guarigione avete visto quindi le scritture cosa dicono per ricevere determinate cose determinati doni da Dio cosa bisogna fare in alcuni casi c'è l'unzione dell'olio qui oggi abbiamo parlato dell'imposizione delle mani quindi vi ho voluto parlare di questo prima di tutto perché è una dottrina fondamentale e poi affinché voi sappiate guardarvi da tutte quelle pratiche che non sono bibliche che non sono bibliche perché un servitore di Dio che ha una grande autorità da Dio ha dei doni da trasmettere agli altri usa i mezzi che sono nella scrittura impone le mani se sei malato ti unge d'olio ma non è che si mette a fare cose strane per poterti diciamo far ricevere qualcosa da Dio un vero servitore di Dio si usa di quello che è scritto nella parola ma perché non c'è bisogno di altro non c'è bisogno di altri ritti di altri rituali strani non ce n'è bisogno è già quello di cui abbiamo necessità è già nella scrittura quindi dobbiamo praticare quello che c'è nella scrittura non ci dobbiamo inventare nulla se vediamo qualcuno che si è inventato qualcosa retarguittelo fermate cosa stai facendo dove lo puoi confermare con le sacre scritture quello che dice quello che fai che le benedizioni di Dio passano dall'uno all'altro dando calci lo puoi confermare con le scritture una tale cosa eppure li abbiamo visti fratelli li abbiamo visti no girando sul web si trovano anche queste cose purtroppo ma Dio ha stabilito ha stabilito l'imposizione delle mani per le guarigioni ha stabilito l'unzione dell'olio capite quelle cose che Dio ha stabilito quelle dobbiamo praticare e dobbiamo fuggire da tutte quelle altre cose che invece Dio non ha costituito questo era il messaggio questa conoscenza che ho voluto comunicarvi su una dottrina fondamentale elementare che è l'imposizione delle mani a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli Amen